Sono quelli stabiliti al calendario? Assolutamente sì, è un dibattito ampio, approfondito, sereno, le posizioni sono quelle che si erano già delineate, noi e il PD siamo intervenuti a favore della decadenza, la Lega si è schierata in toto con le tesi di Berlusconi, il senatore Dasco ha evocato, non sapendo più chi evocare, giuristi morti che ha preteso di schierare dalla sua parte, ma poveretti non possono replicare, quindi domani proseguirà con gli interventi miei e di altri componenti, così mercoledì vedremo di avere la relazione conclusiva del relatore, la replica, la mattina e poi la sera il voto. Tutto normale come in un paese normale, speriamo. Un calendario così celere è frutto anche di una vittoria del Movimento 5 Stelle? Ma senza alcun dubbio, ed è il rispetto della legge Severino, la legge Severino prevede una pronuncia immediata, noi abbiamo richiesto il rispetto della legge e l'abbiamo ottenuto, quindi mi pare una vittoria dei cittadini.